ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft antfarm survival l'intro no 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 vabbè ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft antfarm survival in quale io volevo esplorare ancora un po' questa mappa tanto per metterci un po' avanti prima di tutto queste cose rompono un sacco e secondo volevo magari esplorare ancora un po' questa mappa allora siamo di notte che sfiga che spacciatura che spacciatura ne ho anche il piccone tanto per dai vieni sul coraggio e siamo di notte che bello ah poi qua ho fatto il mio orticello che tanto non è che se l'ho fatto off camera non è che l'orticello è la cosa più bella della mappa quindi ci stava anche off camera e quindi l'ho fatto off camera perchè non ho messo tanti video in questo tempo vabbè prima è tutto i compiti ma secondo perchè ho trovato quel video di no quel server minecraft world adventure in quale ho messo anche il video di quindi ehm qualcosa lì ultra hardcore e qua ci siamo già stati vero abbiamo trovato i diamanti però non li possiamo prendere perchè ci serveva il piccone di ferro quindi ho giocato molto in quella quindi ho trovato il server persino un secondo un secondo fast sono usciti quindi mi piace troppo troppo bello lo consiglio a tutti allora però volevo esplorare questo mmm ok va bene si si giusto lo sappiamo tutti allora perchè mi sono presa tutta questa roba se voglio esplorare esplorare si fa senza niente ovviamente perchè si perde molto facilmente grafica nuvole no e quindi adesso noi dobbiamo andare a casa a posizionarci tutta la nostra roba perchè esplorando si fa male e se si ci fa male si perde la roba e se si perde la roba bisogna iniziare da capo e se si inizia da capo la serie dura una vita e se la serie dura una vita io non inizierò mai l'extremant farm se io non inizierò mai l'extremant farm mi sentirò male e se io mi sentirò male vabbè comunque possiamo andare adesso spawn tutti i creeper del mondo qua per rovinarmi il mondo e io non ho neanche la spada pensa pensate allora si lì ci sono andate però lì no quindi utilizzerò l'endiana tanto per non non rovinare il mondo nelle scale e perdere tanto tempo e poi anche notte eh guardate le mie bellissime scale di là volevo andare volevo andare no oh si per rompere l'ho messo non so perché lì c'è un muro perfetto un mulo possiamo saltarlo no no di pochissimo wow qui c'è c'era il muro perfetto io non ce l'ho fatta saltarlo ferro quanto e va ma qua c'è uno stag di ferro e va uno due tre quattro cinque sei sette faccio l'armatura completa si che bello questo fungo dovremo raccoglierlo si una volta altro ferro lì adesso io come ci vado di sopra allora no vabbè ormai tanto non ho niente si dai picchiamine sei grazie allora andiamo da altre parti perché lì c'era un piccolo cieco pieno di ferro che basta per farsi uno stag di armatura di diamante no c'è il ferro fai l'armatura di ferro vabbè al massimo ti fai due spade con tutto quel ferro andiamo di qua no ci sono già stato milioni di volte infatti no si ye what are you doing come si fa a perdere in questo modo andiamo veloce oh sta spawnando il sole che bello allora proviamo di qua non è la stessa grotta fidatevi ah qua ci hai già fatto il ponte è vero sono già passato oh ci sono già passato non ci sono creeper no proviamo a vedere se sotto c'è del ferro no vediamo no uffa adesso cosa c'è lì lì uno spawner di cosa allora devo distruggere tutti i spawner che trovo a distruggere tutto io distruggere tutto tutti i spawner del mondo tutti i citti eh mettiamo volume ok può bastare lava quindi lì c'è una grotta e vai dopo ci proverò a ad andare ecco così ci facciamo delle scale vabbè tanto 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 anche se non ci fossero le scale fa lo stesso perchè non sta spawnando niente cos'è lo spawn di lo distruggere le mani nude lo distruggere le mani nude sì ma magari se è di enderman lo spawner di enderman mi servirebbe molto quindi è meglio se non lo distruggere le mani nude spawn di spawn di scheletri ecco c'è una cosa bianca che gira sì sono scheletri no ma sì sono scheletri secondo me quindi possiamo subito iniziare a distruggere perchè gli scheletri non mi servono no sì sono scheletri ma cosa c'è cosa rosso? scheletri con il berretto rosso ma sì possibile vabbè perchè non sto spawnando niente eh? ah no ma ma da boccia ecco ho trovato ho un'idea sì ho un'idea no non è un'idea non è uno spawner di scheletro è un'affermazione ma è uno spawner di polli trovate lo spawner di polli kung fu uh sì ci godo poi dovremmo far crescere questo coso qua però non è rossa spawner di polli ciao quindi qua dovrei attivarlo ma come si attiva lo spawner? ah sì è vero ho visto un nuovo video di visto un nuovo video su youtube che per attivarlo bisognava metterci l'erba intorno e bisognava che no la terra intorno bisognava che la terra avesse l'erba quindi per fare che la terra abbia l'erba cosa bisogna fare? bisogna mettere i funghi no bisogna spaccare quel tetto sopra sopra e poi alla fine una volta spaccato il tetto sopra ci verrà l'erba e una volta venuta l'erba vivremo tutti felici e contenti vai perché avremmo fatto una nuova missione eeeh vai da più in alto da più in alto ancora devo perdere per prendermi la pala però in questo video non so se ce la faccio vabbè semmai lo farò off camera non è che la... tanto dopo vi mostrerò come viene però è stra figo ho trovato lo spawner di polli avremo cibo all'infinità siiii così ci fa ragazzi ma quanto siamo? 8 minuti almeno insieme vai allora coso? coso? no no coso? coso? e vabbè la pala non ce l'ho acquisto ma la spada potrei anche lasciarla? no qui l'albero ha scomparso poi noi dovremo andare di qua poi se perdo tanto una spada di cobblestone non è che la cosa... però uno stall di terra un po' si perdo se perdo mi pinto e poi ho un sacco di esperienza talmente tanta che non posso incantare neanche un bastone ma dopo come risaliamo? allora prima di tutto cosa che sappiamo è che lo spawner di polli era proprio al limite di qua quindi bisogna fare solo così scavare in basso ma quanto bisogna... oh quanto bisogna scavare in basso? no no ma forse non era qui qua cioè non scavo... eccolo trovato dobbiamo togliere tutta questa collinetta qua dobbiamo scavare un bel po' fighi c'è? dai mamma mia qua lo spawner è lì quindi dobbiamo scavare questo pezzo si tutto questo pezzo fino in alto uffa se metto un po' di pausa non vi dispiace? vabbè ragazzi credo che questo video possa finire qui guardate come sono andata avanti dovrei secondo me scavare un po' di più mi farebbero comodo un po' di creeper si comunque scusate se oggi magari ho parlato un po' più piano del solito ma forse no non lo so comunque se ho parlato un po' più piano del solito scusatemi si perchè non è stata mia intenzione solo che sono le 10 di notte quindi no non le 10 9 e mezza quindi l'ho fatto perchè non ho caricato da tanto video su Land Farm però dato che è tardi ecco questo è meglio dato che è tardi non è che ho parlato con tutta la con la spawner mob ma devo spawner mob qua ma qui vicino ci sarebbero delle grotte lava mob tutte quelle cose lì che mi danno fastidio ve la lava no perchè lava bisogna poi dovrei fare anche portare per il nether eh si scusate se oggi ho parlato un po' più piano del solito ma sono anche un po' stanco e questo video lo verrà caricato il prima possibile e anche questo mob spawner verrà attivato il prima possibile dovrei spaccare ancora 3 3 cose si tutto quel pezzo lì tutto via spaccaro via spaccare via boom boom baby tutto spaccare via basta no? si si bastano ecco fatto tutto questo pezzo è del mob spawner capire? queste cose per bellezza perchè qua non potere mettere? perchè c'è la luce? eh perchè non potere? sono troppo vicino ai blocchi? no di qua le posso mettere? scusa perchè non le posso mettere di qua? perchè c'è la luce forse? si proprio bene ah quindi queste cose non crescono alla luce fido ecco ecco ho fatto bellezza assoluta e adesso come mi suicido? come mi suicido adesso? eh non serve ancora suicidare allora possiamo fare così si prova a sapere lo faccio? eh? lo faccio? si ce l'ho fatta? nooo di un blocco di un cubo di un cosa? ecco ragazzi dammela allora volevo fare questa cosa ecco coprire lì poi qua sta brutto ma vabbè facciamo così questo capello e al prossimo video rinesci tutto il giorno tutta la notte ciao a tutti ragazzi e al prossimo video